Buongiorno a tutti. Oggi a domanda risponde parleremo di mobilità 2021-2022, un argomento inevitabile visto che giorno 29 marzo è stata pubblicata l'ordinanza sulla mobilità. Sono state firmate quindi le ordinanze relative alla mobilità del personale docente, educativo e ausiliario tecnico e amministrativo per l'anno scolastico 2021-2022 e l'ordinanza relativa ai docenti di religione cattolica. Prima di iniziare con le domande diamo un attimino le date di presentazione di queste domande. Il personale docente potrà presentare domanda in modalità online su istanze online del Ministero dell'Istruzione dal 29 marzo al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio sarà chiuso il nodo Sidi per organici e domande dei soprannumerari che saranno presentate in modalità cartacea. Il 7 giugno ci saranno le pubblicazioni dei movimenti. Il personale educativo invece presenterà domanda dal 15 aprile al 5 maggio 2021. L'8 di giugno ci sarà la pubblicazione per quanto riguarda il personale educativo. Per il personale ATA le domande potranno essere presentate sempre in modalità online dal 29 marzo al 15 aprile 2021. La pubblicazione del personale ATA, dei movimenti del personale ATA andrà all'11 giugno 2021. Infine ci ci sono i docenti di religione cattolica che presenteranno domanda in modalità cartacea dal 31 di marzo al 26 di aprile. La pubblicazione dei movimenti dei docenti di religione cattolica sarà il 14 giugno 2021. La prima domanda a cui diamo risposte è la seguente. Ho ottenuto il trasferimento su preferenza di scuola per l'anno scolastico 2020-2021 ma ho la precedenza 104 per l'invalidità personale. Posso fare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2021-2022? Diciamo questo che il docente che ha ottenuto il trasferimento della domanda di mobilità 2019-2020-2021 in scuola chiesta con preferenza puntuale nel modello della domanda dovrebbe restare vincolato per tre anni nella scuola di nuova titolarità. Dunque per un triennio non potrà muoversi. Tuttavia se il docente ha una precedenza 104 per invalidità personale in questo caso e non è rientrato nel comune di residenza allora il vincolo decare e potrà fare domanda di mobilità. Rispondiamo alla seconda domanda. La seconda domanda dice sono entrato in ruolo con una retroattività giuridica a seguito di un ricorso vinto nell'anno scolastico 2015-2016 ma economicamente il mio ruolo è iniziato nell'anno scolastico 2019-2020. Come devo compilare la domanda di mobilità? Beh se la retroattività giuridica della nomina è operata per effetto di un giudicato questo periodo va indicato nella casella 1 del modulo della domanda di mobilità dove c'è scritto il numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza lettere A e A1. Dunque là va inserito il numero degli anni di ruolo. Se invece la retroattività giuridica nel ruolo di attuale appartenenza è anteriore a quella di decorrenze economiche e non è coperta da effettivo servizio il periodo va indicato nella casella 2 del modulo della domanda. Alla voce retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio. Lettere B e B1 nota 4 del modello di domanda. Andiamo alla terza domanda. Se nel comune in cui vive il familiare a cui ci si vuole ricongiungere non esistono scuole da poter esprimere nella domanda cosa si deve fare per avere riconosciuti i sei punti del ricongiungimento? Il punteggio di ricongiungimento è spettante anche nel caso in cui nel comune dove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, ovvero non c'è la classe di concorso per poter insegnare in una data scuola. Dunque non si può richiedere, non esiste la possibilità di richiedere una scuola del comune in cui il familiare per cui si chiede ricongiungimento vive da almeno tre mesi, ovvero per il personale educativo istituzioni educative richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole, ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo la tabella di vicinorietà oppure per il comune, sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nella residenza del familiare, nel comune della residenza del familiare. Speriamo che questo video sia utile a tutti coloro che dovranno fare domande di mobilità, seguiteci nel nostro sito www.tecniciallascuola.it, seguiteci nei canali social Facebook e YouTube perché faremo altri video e altri articoli che riguarderanno proprio il tema della mobilità 2021-2022. Arrivederci a tutti!